Non state con gli italiani, se voi volete imparare, farvi proprio l'esperienza australiana, non state con gli italiani, perché si vedono gli italiani che stanno con gli italiani, com'è il loro inglese, e gli italiani che stanno con gli australiani, com'è il loro inglese, e il modo di comportarsi, che io ho convissuto con dei ragazzi italiani, anche della Romagna, che vivevano da italiani in Australia, così non funziona. Sai quante volte si diceva, ma le Dolomiti mi mancano, le montagne mi mancano, sì ma tu l'hai visto quanto è bella l'Australia? Eh no, chiaro, non ci sono delle montagne alte come in Italia, la barriera con la lina. La cosa che ho più visto è che si aspettavano di venire in Australia solo per il portafoglio, e non riuscivano a vedere la bellezza di quel paese, che io sono innamorata, a me sì, soldi se ne fanno, se sei singolo in Australia se ne fanno appalate, proprio perché non sai dove mettertene più. Però l'apprestamento, io e mio fratello passavamo il weekend a andare in giro, andare in collina, magari andavamo in moto, andavamo in passeggiata, eravamo al mare a fare free diving ogni weekend, cioè l'abbiamo proprio prestato tanto. Tant'è vero che io quando tornavo qua, l'anno non mi dicevano mai che ero italiana, mai. Qua mi diceva, sei venuto un'americana che prova a parlare italiano quando la mia cento volte è forte, no? Perché io mi sentivo a casa e io se avessi vissuto come vivevano gli altri italiani, che per mangiare mangiavano sempre le tagliatelle o sempre le lasagne, non si adattavano mai, andavano a mangiare fuori, oh ma questo cibo qui non mi piace. Cioè vivevano tanto da italiani e venivano in Australia solo per i soldi e poi si tornavano con quei 5 o magari 6 mila euro in più da quando erano partiti, perché li avevano fatti là. Sì, sì, non cambiano la vita. Non cambiano la vita, non avevano mai quella flessibilità di testa. Io credo che il mio vantaggio più grande, quello del mio e mio fratello, ma soprattutto il mio, è avere questa dinamica di testa, di adattamento e di non avere paura da fare del cambio. E l'Australia è stata pivotale in questa cosa che mi ha insegnato, di essere dinamica. Gli italiani non è che siano tantissimo dinamici, sono molto strutturati, per cui la nostra burocrazia parla da sola, cioè è così, è strutturata, vecchia, lenta. Gli australiani sono una roba che cambiano.